Proveremo a fare un video nominativo, cioè Cooper Segreto, vediamo. Allora ragazzi, qua, vediamo un attimo è molto difficile fare le visualizzazioni, fidatevi che è molto difficile cioè, ho un pubblico di appassionati, di pandino, poi qualcuno che non è facile. Allora vabbè, il titolo è tutto, allora ragazzi qui, questa è un'arma, perché io l'ho provata, è un'arma questa qui è la sega, qua c'è il consueto casino, allora praticamente vi faccio vedere il taglio, il taglio è una roba pazzesca dicono che sia pericolosa, io è la prima volta che l'ho usata e confesso che è potenzialmente un'arma, è potenzialmente un'arma, quindi bisogna sempre stare attenti, quando tu ti senti difficoltà lasci questo bottone lasci questo bottone e lei si ferma subito, rallenta e si ferma ci vogliono però due secondi, quindi non ti fidare troppo del bottone l'istinto non ce la fai a staccare la spina, poi romperesti l'oggetto se tieni attaccato e stacchi la spina, capito? questo secondo me è un'altra accelerazione della lama, che io non l'ho utilizzato fortunatamente ah, praticamente i tagli che tu fai tradizionalmente ci metti con la sega due ore, perché io con la sega qui ho bestemmiato con questa lama tu ci metti 30 secondi ci metti 30 secondi, capito? è impressionante grazie Grazie.